Vi faccio una domanda, quanto è importante 1.0? Nel caso della Arash AF10 Hybrid è tantissimo. Considerate che se in fondo ha 208 CV, che è una cifra che ormai si trova praticamente su tutti i dati tecnici delle auto, più o meno, aggiungete 1.0, ottenete la potenza totale di questa Arash AF10. Si tratta di 2080 CV, 295 ottenuti da ogni singolo motore elettrico che opera su una delle quattro ruote, e più il 6200 V8 da più di 900 CV. Se appunto la matematica non è un'opinione, questo significa avere il doppio della Ferrari come potenza, più o meno ad un prezzo simile, più di un milione di euro. Voi quale scegliereste?